Niente, ritentiamo e ricominciamo perché c'è stato qualche problema, probabilmente c'era qualche problema di rete e non era partito il Meteo Briefing. Vediamo un po' se stavolta siamo in linea, se riuscite a darmi i commenti, sì, sembra che sono assolutamente in linea. Condividiamo il Meteo Briefing anche su Emilia Romagna Meteo, ecco, vedo che ci siete già in sei, adesso cominciamo. C'era appunto grande attesa per questa nevicata o meno, veramente ho visto poche volte una fobia della neve come in questa occasione, sembra che non abbiamo mai visto la neve. Ci sono le reazioni più opposte da dai dai nevica o dio dio nevica. Insomma, invito tutti a ridimensionare la questione a quello che è, quello che succede, succede. A parte Babbo Natale e la Befana che adesso non sono operativi, insomma, c'è veramente una fobia della nevicata. Invito a ridimensionare tutto e soprattutto non vi darò i centimetri che cadranno. Abbiamo qua tutto, quindi non aspettatevi che vi dica quanti centimetri cadono a casa vostra dalle alle, ma semplicemente vi illustrerò la situazione sinottica. Io ho pronto tutto, dalla piccola nevicata con il righello, una nevicata più importante con la riga. Ricordo che per misurare la neve bisogna tagliare la riga a livello dello zero e misurarla in un certo modo. Se va molto bene abbiamo il metro e se va male il micrometro o la lente di ingrandimento. Ho messo via il binoccolo. Poi ho il manuale dei fiocchi di neve, fondamentale perché dovete sapere che nella storia della Terra sono caduti 10 e 24 fiocchi di neve, ma non uno è uguale all'altro. Quindi vorrei prendere il lavoro di questo ricercatore, di Kenneth Liebert, che gira con un'auto attrazzata, con un microscopio attaccato alla macchina fotografica e va a catalogare, a fotografare i fiocchi di neve. Iniziamo dunque il meteobriefing e andiamo a vedere che cosa ci aspetta. Avevo preparato tutto, poi ho dovuto ripartire e insomma siamo qua con la sfera di cristallo. Veramente grandioso Andrea Raggini su Emilia Romagna Meteo che ha trovato questa immagine. Senz'altro questa indovina, magari ci becca di più delle app automatiche. Cancellatele tutte, smettetela di dirmi ma l'app tale ha dato eccetera eccetera. La Lola è già letta, volevo dire. E quindi via, eliminatele, vi consumano soltanto la batteria e delle risorse. Se è inutile seguite www.emiliaromagnamenteo.com La perturbazione sta avvicinandosi, ormai è ridosso delle Alpi Occidentali, anche nelle Alpi Orientali qualcuno segnalava già che c'è neve. Ecco, il problema del vento, le vostre segnalazioni sono gradite, sarà l'elemento fondamentale soprattutto in Appennino. E intanto che tutti aspettiamo la neve, guardiamo il dito e sfugge la luna. Stiamo respirando un'aria veramente schifida, soprattutto perché ovviamente fa freddo, teniamo i riscaldamenti abbastanza alti. Non dimentichiamoci della qualità dell'aria, insomma. Quindi tra l'altro la neve ripulisce meno rispetto alla pioggia e al vento. Quindi insomma non affidiamoci al meteo per dire migliorerà la qualità dell'aria. No, nessuna App Meteo Automatica è affidabile. Affidatevi soltanto a me. Non avrai altro meteorologo all'infuori di me. Quello che preoccupa, se andiamo a guardare il radiosondaggio, è quello di Milano delle ore 12Z, quindi delle 13, e quindi adesso può essere solo peggiorata la situazione. Stato di aria fredda abbastanza spesso dal suolo fino a circa 1500 metri, ma questo è in versione termica. Non depone a favore per le nevicate in pianura almeno in una prima fase. depone a favore del rischio di gelicidio. Qui però è una situazione che è veramente borderline. Per quello tutti i modelli sono incerti. Perché con una situazione di questo tipo, di profilo termodinamico, è sufficiente un aumento di temperatura di un grado o un calo di un grado per passare dalle stelle di neve alle stalle di gelicidio. Gelicidio ricordo la parola. Quindi è una situazione che si gioca sui decimi di grado. Per quello non è così facile, vedete le previsioni che variano, eccetera. Purtroppo in una prima fase il riscaldamento dominerà. E la sinottica della mattinata di domani, con la depressione Egon, che poi è un suo minimo secondario, e l'anticiclone dell'Azzorra esteso fin quasi a Granlandia, si attiva questa discesa di aria fredda, che entra a quest'aria fredda, piuttosto fredda, ma di tipo artico-marittimo. In una prima fase polare, ma correcchiamo di questo fronte caldo, che nella prima fase è dentro da noi, dicevo il minimo si trova nell'alto Adriatico e questo gradiente di pressione, insomma, non è la situazione ideale. È molto veloce, è un fronte freddo, molto dinamico, potrà dare un vero e proprio campionario di meteo, ma parlo dell'Emilia Romagna, non è la situazione ideale. È troppo veloce, ci assomiglia, ma è troppo veloce, l'aria è troppo secca, e poi c'è questo richiamo caldo. Ecco, se stazionasse un po' di più, allora sì, ma essendo molto veloce, insomma, ve lo dico francamente, è rimasta questa freccia, ma dovrà andare lì, c'è la possibilità che vediamo finalmente la neve. Non mi aspetto in pianura a Emiliano Romagnola la nevicata paralizzante. Ciò non toglie che il gelicidio potrebbe, se c'è, potrebbe causare dei problemi anche ben maggiori. La depressione dopo si allontana e va a posizionarsi troppo sud, è vero che domenica alcuni modelli danno qualche cosa, ma a me non piace troppo. Assomiglia alle situazioni da neve, ma non è perfetta, insomma. C'è sì il promontorio, ma la situazione in quota vede l'asse della saccatura qui, e quindi non la vedo ideale a seppellirci di neve, per intenderci. Spero di sbagliarvi, però di domenica ne parleremo in un secondo tempo. Lunedì l'anticiclone si dispone con l'asse dalle azzorre, praticamente, da Madera fino alla Scandinavia, e in questo suo fianco orientale continuerà ad affluire aria fredda, con la depressione che stazione in una posizione abbastanza incerta, comunque piuttosto a sud, quindi vedremo dopo gli effetti. Piace molto questa mappa, questa è su domenica, la bassa pressione del modello di Reading sembra ideale sul medio-basso Tirreno, ma è un po' troppo sud per l'Emilia-Romagna. Meglio per l'Appennino, le nevicate in Appennino potranno, appunto, esserci un qualche cosa, anche se non sarà una roba travolgente, ma senz'altro finalmente potrebbe arrivare la neve sull'Appennino, e anche un po' sulle Alpi, anche se qui, anche qui in situazioni non sono propriamente quelle ideali. Poi ho elaborato questo, che è il percorso delle masse d'aria con le traiettorie retro-traiettorie lagrangiane, la linea rossa ci rappresenta il percorso della massa d'aria che arriverà a 500 metri sulla pianura padana emiliana, quindi proviene proprio dal polo nord e proviene da zone marittime, quindi è aria artica sì, ma di tipo marittimo, non è più quella continentale. Guardate a 1.500-3.000 metri la massa d'aria che compie questo giro qua. Questi traiettorie qua servono anche per stabilire il percorso degli inquinanti. Se scoppiasse una centrale nucleare in Inghilterra o in Francia, tutta la loro radioattività viverebbe in fretta verso le nostre zone, ma esserci vicino sarebbe peggio, non è un motivo per dire facciamo le centrali nucleari qua da noi, insomma. Quindi, prima di passare le mappe che ha elaborato i raggini, volevo guardare con il Meteo Earth, che è molto spettacolare, abbastanza televisivo, e vedete qua che sembra che abbiamo qualche cosa, ma siamo borderline, qui vedete Modena, e se ne va via in fretta. Guardate qua la neve che rimane principalmente a nord delle Alpi, sabato la giornata si libera anche dalle nubi, e poi, e poi, e poi, e poi boh, sembra che ci sia una fase di nevicata sulle Alpi fra domenica e lunedì, ma la ritornante arriva, non arriva, insomma, faticherà, ci sarà da soffrire in un verso o nell'altro. È una situazione molto interessante, più che focalizzarmi e fossilizzarmi, nevicherà, non nevicherà, mi interessa elaborare, guardare come evolve la situazione. Allora, domattina sarà una notte da Lampionari, sì, arriva un po' di nevicate anche sulle Alpi da Francesca, finalmente, non una roba travolgente, ma insomma, domattina e stanotte da Lampionari, quindi ci si sveglia di notte, si va fuori con una torcia, io ne ho preso una led veramente potente, vi illumino in faccia, si va fuori, si illumina e si vede se fra la pioggia ghiacciata, poca roba che cadrà, eccetera, eccetera, ci sarà in mezzo. Principalmente, io penso che poi alla fine precipiterà poco nella pianura emiliana, ci sarà pioggia anche battente e con repentini passaggi da pioggia a neve sul crinale, probabile gelicidio nelle valli a ridosso dell'Appennino e molto vento sul crinale appenninico, veramente tanto, veramente forte, vale per tutto il crinale. Poi venerdì sera, venerdì pomeriggio, secondo me un po' prima, mentre passa il fronte, ecco, potrebbe esserci fra l'Emilia orientale e la Romagna, potrei vederlo anche un po' più in là, una breve sbufferotta, quindi questa è l'unica possibilità che abbiamo di vedere una neve, a meno che stanotte ci sia la sorpresa, non escluderei che domattina ci svegliamo e ci troviamo a 20 cm di neve non prevista, cioè, non lo escludo, lo ritengo poco probabile, ma sarebbe veramente bello, quindi domattina aprire la porta al bando queste mappe qua, perché che ve ne frega se nevica no, se nevica state a casa, punto e basta. È uscito però anche un'allerta meteo della regione Emilia-Romagna, quindi mai sottovalutare questa allerta, è un'allerta neve nelle aree A, B, C, D, cioè le zone appunto dell'Emilia orientale della Romagna, che è quella più facile che vedano la vera neve, e il problema del gelicidio in tutti gli altri settori, ecco, questo può essere veramente insidioso, ecco, qui sì che il sale può fare qualche cosa, ma va dato sopra, non va dato prima, prima ho la batteria quasi scarica, speriamo di riuscire a finire il briefing, quindi cerchiamo di sbrigarci, ve l'ho già detto, ecco, domenica c'è l'altra possibilità, siamo nuovamente in una situazione un po' borderline, come abbiamo visto prima è ancora incerta, quindi io lancio una scommessa, se nel corso della prossima settimana, che ci sono altre situazioni potenzialmente da neve, non viene una nevicata paralizzante, io mollo tutto, non mi occupo più di neve, torno qua nella riserva Karen in Costa Rica con gli amici di Foreste per sempre, Sepaleco, e vado a occuparmi di fenomeni tropicali, perché adesso c'è bisogno della nevicata paralizzante. Quindi abbiamo sostanzialmente concluso, che cosa avevo per la grande conclusione, ecco, se proprio queste formule non funzionano, abbiamo un modello alternativo. Tiriamo la freccetta e vediamo se domani pioverà o nevicherà. Grazie e buonanotte a tutti.